ciao a tutti amici del canale oggi siamo qui con un nuovo video questa volta un video esperimento ma anche tutorial si spera che diventi un tutorial perché vorrei fare praticamente questo esperimento con la lavatrice ultrasuoni lavare un movimento di un orologio che abbiamo qui sotto praticamente non smontando nulla per vedere se una volta che tutto lavato è fatto insomma è pronto vedere se alla fine il movimento comunque risulta funzionante e pulito ovviamente come regola io sto usando comunque un citizen come movimento base abbiamo un sì un citizen eccolo qua non riesco a capire l'8200a eccolo qua faccio vedere e vediamo se effettivamente dopo la pulizia l'orologio comunque risulta fruibile usabile senza oleature senza niente quindi è un vezzo che mi voglio togliere io e vediamo se alla fine qualcosa si risolve insomma prima di continuare con il video ragazzi vi invito sempre iscrivervi al canale commentare mettete like insomma interagite a voi non costa nulla a noi invece aiuta tantissimo affinché tutti i video del canale vengano comunque proposti più possibili sulle home di tanta gente insomma e vi invito anche a seguirmi su instagram e niente possiamo concludere qui e iniziamo con questo video e ci vediamo tra poco allora dopo aver smontato l'orologio movimento mancette ferma movimento quadrande cassa e fondello procediamo in questo caso a lavare solo il movimento eccolo qui e procediamo anche con l'alberino con l'annessa corona tutto il resto lo possiamo lasciare volendo possiamo metterci anche cassa e visto che la lavatrice comunque lo spazio ce l'ha ci mettiamo anche questi adesso prepariamo la 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 vasca io userò del bicarbonato perché comunque il bicarbonato non è aggressivo danni ovviamente poi va tutto asciuttato per bene e quindi verificheremo poi dopo ovviamente voi lo vedrete subito ci vorrà un po di tempo perché tutto deve essere ovviamente asciutto non essendoci comunque nessun tipo di contatto elettrico dovrebbe io ripeto è un esperimento che sto facendo si può fare su un movimento così vediamo cosa ne esce appunto qualcuno deve pur farlo in modo da poter capire cosa si può ottenere adesso prepariamo il tutto e continuiamo insomma qui abbiamo preparato tutta la vasca bisogna fare solo un messo c'è il bicarbonato girare un po giusto per diluire di più il bicarbonato nell'acqua e poi possiamo procedere io procederò con tutti i livelli di tempo che ci sono nella lavatrice ultrasuoni ho preparato qui già il la vasca c'è la l'alloggiamento dove ci sta anche il movimento e tutto procedo ormai più ormai è andato chiudo e si attacca la spine insomma e l'ho impostata a 4 minuti 80 e andremo sempre a calare e vedremo alla fine del processo cosa succederà quindi possiamo già partire on la lavatrice è partita adesso vedremo cosa otterremo insomma man mano adesso farò delle riprese farò vedere da vicino più o meno tutto il processo cosa cosa avviene io appunto non so cosa potrà uscire più che altro per il movimento però i movimenti comunque si lavano smontati tutti smontati pezzo per pezzo nelle lavatrici ultrasuoni dove vengono comunque fatte delle diverse dei diversi bagni con diversi prodotti io qui lo sto facendo con un movimento che comunque non succede nulla insomma però era un esperimento che da tempo volevo fare per vedere alla fine se l'orologio continua a funzionare tranquillamente anche perché questo era già un orologio che era un po compromesso e non sono mai riuscito a regolarlo per bene tramite la racchetta e anzi ci farò un video prima o poi sul regolazione della racchetta e perdeva praticamente tanto quindi alla fine sicuramente ha dei problemi questo movimento alla fine quindi non mi costa nulla fare questo e niente adesso procederemo e vedremo come va ma ho dei leggeri dubbi però alla fine l'esperimento lo volevo fare quindi come va va vedremo tutto alla fine del processo come andrà allora il primo processo di 4 minuti 80 è finito mette a fuoco vediamo sì non si vede nulla perché adesso tutto col bicarbonato insomma ha creato un po' di si è alzato un po' il bicarbonato quindi adesso procediamo con l'altra mandata l'altra mandata la facciamo di 380 ecco qua ed è partita l'altra le voglio fare tutte e quattro i setup per vedere alla fine cosa ne esce allora abbiamo finito con il secondo giro adesso settiamo è a 180 180 480 no mi sa che il 2 280 e andiamo di nuovo a scalare il ciclo insomma voglio fare tutti come ho detto prima tutti i cicli per vedere cosa per ottenere il risultato migliore insomma abbiamo finito l'altro quello da 280 procediamo col 180 e poi il 90 e adesso si procede con l'ultimo quello da 90 e poi abbiamo concluso e vedremo insomma i risultati finali allora possiamo dire di aver concluso tutto il processo praticamente la lavatrice si può chiudere insomma vediamo un po' ovviamente non si vede nulla ma adesso metteremo tutto qui sul posto e bisogna attendere poi che tutto asciughi ok io ho tolto cassa e fondello perché alla fine quelli sono puliti insomma vanno solo asciugati ma come danni non può fare assolutamente nulla se non aiutare a pulire di più infatti sono molto più puliti ma questo non è quello che mi interessava quello che mi interessava a me fondamentalmente è il movimento per vedere insomma se c'è stato qualche miglioramento o qualcosa o se non si è sfracellato del tutto insomma ovviamente questo lo potremmo vedere solo una volta che è tutto asciutto vedendolo così sembra abbastanza pulito ma bisogna capire dopo io eventualmente ve lo farò sapere perché ci vorrà molto tempo farò uno shorts dove vedremo se alla fine il risultato si è ottenuto oppure è stato un fallimento e niente possiamo concludere qui il video si conclude qui e ci teniamo aggiornati con gli aggiornamenti tramite shorts perché è molto più immediato ciao ragazzi ciao